In occasione della recente ricorrenza di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia del Corpo dell'Infermiere Volontare della Croce Rossa Italiana, una messa si è celebrata nella chiesa di Santa Maria Lanova alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, compresa una delegazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Santa Caterina da Siena, divenuta patrona del Corpo dell'Infermiere Volontare della Croce Rossa Italiana per concessione di Papa Pio XII nel 1947 e iconografia di sapienza, purezza, coraggio e dedizione e nel breve arco della vita terrena fu infermiera volontaria tra i deboli, i poveri, gli ammalati, interpretò la carità cristiana in modo fattivo e concreto. Per tutti, le Infermiere Volontare della Croce Rossa Italiana sono da sempre portatrici di umanità, amore e vicinanza verso coloro che in pace come in guerra hanno potuto trarre una nuova speranza dal loro sguardo. La storia del Corpo delle Infermiere Volontare della Croce Rossa Italiana si snoda nell'arco di un secolo, dal 1908 ai giorni nostri, in parallelo ed in contemporanea con la grande storia dell'Italia, dell'Europa e del mondo intero sconvolto dalle guerre, ma soprattutto testimone di tutti quegli avvenimenti che hanno inflitto ferite alla società civile e che hanno interessato il nostro Paese nei più di cento anni trascorsi dalla Fondazione.